Nessun nuovo trasloco per il mercato ambulante. Non lascia dubbi l'assessore Sade Golvad nella sua risposta alla doppia interrogazione proposta dai consiglieri Rufo Spina di Forza Italia e Renzi, di Fratelli d'Italia. Entrambi chiedevano di prendere in considerazione uno spostamento nell'area Settebello, anche alla luce delle trattative in corso tra Comune ed RFI sull'area stazione. I motivi? Con l'attuale dislocazione dei banchi, secondo Renzi, vengono meno tra parcheggi importanti come Gramsci, Santa Rita e Padane. Ci sono disagi al traffico, difficoltà d'accesso per gli studenti, oltre a numerosi ambulanti in difficoltà. Problemi anche per il residente, evidenziato Rufo Spina, ricordando le 500 firme raccolte dal Comitato Centro Storico, con passi carrai occupati e sveglie all'alba. È vero che ci sono ambulanti in difficoltà in zona Padane e Gramsci, ha premesso l'assessore, ma ce n'erano anche con la vecchia collocazione. Per quanto riguarda le attività commerciali, sono molti i negozi che hanno tratto benefici dallo spostamento, ha detto. Sulla situazione passi carrai, sono 13 quelli occupati, 8 in più rispetto alla vecchia collocazione. Sadegolvara ha escluso difficoltà d'accesso alle scuole, ha ricordato che l'ipotesi Settebello era stata scartata perché non è area comunale, ma soprattutto non è in grado di ospitare tutti i banchi e non sarebbe soluzione ottimale neppure in termine di parcheggi. L'attuale Settebello ospita 580 posti auto. Qualora il mercato si trasferisse al Settebello, verrebbero a mancare quei 580 posti auto recuperando i 220 del Gramsci Santarita e i 190 delle Padane. Ruffospina, sono dati, prenda le planimetrie della città, conti, quanti stalli vengono a mancare, ma il campo da calcio, ma lei fa i conti senza l'oste, quella non è area comunale e quindi non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere ad un ulteriore spostamento dei banchi. Dalla collega Frisoni, alcuni chiarimenti sulla trattativa con RFI per l'area stazione. Il protocollo, il cui itere ancora lungo ha detto, prevede che le aree siano valorezzate, ma non che diventino di proprietà del comune. Insoddisfatti comunque i consiglieri Renzi e Ruffospina. Sarebbe possibile anche con un accordo con l'attuale gestore del parcheggio arrivare a una soluzione che riqualificherebbe sia l'area mercatale, sia il centro storico e soprattutto ci metterebbe in contatto come zona barricentica e con la Marina Centro. Faccio soltanto notare che l'amministrazione continua a ritenere non un problema da porsi il disagio di tanti residenti che hanno firmato queste petizioni e che continuano a svegliarsi al mattino alle 5 per la presenza invasiva di un Suc medio orientale all'interno del centro storico che ne degrada la sua essenza.